E' incredibile, e la Event Horizon è ritornata. La Event Horizon era il culmine di un progetto segreto del governo per la creazione di un'astronave capace di superare la velocità della luce. La nave non va più veloce della luce, ma crea un ingresso dimensionale che le permette di saltare istantaneamente da un punto all'altro dell'universo distante anni luce. E dov'è finita negli ultimi sette anni? E' ciò che dobbiamo scoprire. Dopo sette anni nello spazio più remoto... 18 persone a bordo di questa nave sono scomparse, voglio sapere che fine hanno fatto. Apertura a portarlo esterno. E' tornata, senza equipaggio. Nessuna traccia. Negativo. Questo posto è una tomba. Ma non è tornata. Da sola. Capitano Miller! C'è qualche problema qui! Questa nave deve avere oltrepassato i confini dell'universo. Chissà dove è stata. E cosa si è portata dietro. E' tutto ok! No, che cos'era? Questa nave reagisce e le reazioni si fanno sempre più forti. Lei vorrebbe dirmi che questa nave è viva. No! E ora io ho delle bellissime, meravigliose cose da mostrarti. Oh mio Dio! Conosce tutti i miei segreti. Conosce le mie paure. Ritirata! Abbandonate la nave! Non potete abbandonarla. Lei non lo permetterà. Dio aiutaci.